Un cittadino aretino è ricoverato dal 2 agosto all'ospedale di Arezzo affetto da febbre dengue. Si tratta di una patologia trasmessa tramite la puntura della zanzara tigre ed è presente in numerose aree tropicali equatoriali. L'uomo ricoverato appena rientrato da una vacanza in Thailandia con la famiglia è l'unico componente del nucleo familiare il risultato affetto da questa malattia virale. Le sue condizioni sono in miglioramento con la scomparsa della febbre. Va detto che la malattia non si trasmette direttamente da uomo ad uomo ma tramite la puntura di zanzara. Ecco perché il Ministero della Salute e la letteratura scientifica mondiale prevedono di mettere in essere una serie di precauzioni tra cui la disinfestazione contro la zanzara tigre nel raggio di 200 metri dell'abitazione della persona ammalata. I pazienti risiedono nella parte a sud di tortaia. Il Dipartimento della Prevenzione della Asla ha già fornito le necessarie indicazioni al Comune di Arezzo, le cui strutture stanno già predisponendo interventi diretti di disinfestazione.